E Mariela, secondo voi Giancarlo qual è? Ma, è lui, è quello che prende più spazio Dobbiamo intervistare Giancarlo o Mariela? Ma, io direi Giancarlo, ma poi tanto lui dopo ti rimanda da me, quindi è tempo perso Per ballare in allegria con Giancarlo e Mariela Noi facciamo Atomica 69, vai! 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 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie, grazie